Come aveva detto il fratello Ndom, di quello che noi facciamo e per quale motivo facciamo queste cose qua, proprio anche l'importanza di questa collaborazione, collaborare tra gli immigrati, l'importanza. Io a volte mi dispiace quando vediamo nella sala c'è poca gente, però non è questo l'importanza. Per noi l'importanza è il messaggio, quindi quello che noi vogliamo fare è di fare, è questo che conta. Ringrazio la dottoressa perché molte volte lei senza sapere è il nostro portaparola, no? E parla sempre per noi, bene anche di noi, perché molte volte le persone ci vengono a contattare dicendo che sono passati da lei e vengono da noi. E' questo che ci dà la forza veramente la dottoressa. A volte si stanca, no? Ma cosa facciamo? Perché lo facciamo? La gente non viene, non abbiamo gli aiuti. Però quando vediamo qualcosa, ad esempio, questo messaggio, no? Qualcuno viene a dire che guarda, mi ha mandato la dottoressa tale e dico ma io volevo molare, invece c'è qualcuno che conta su quello che noi facciamo. E da quel momento noi continuiamo ad andare, continuiamo a camminare. Infatti quello che ha detto anche la collega e il collega Ndome l'importanza di collaborare tra gli immigrati, molti non lo sanno. Io mi dispiace veramente su quello che facciamo i nostri fratelli, amici immigrati non sono interessati. Invece di riunire le forze, invece di lavorare insieme, loro guardano da lontano, a volte dicono ma te cosa fai? Cosa guadagni dietro? Invece di stare a casa, di riposare, dite vai lì, vai a trovare le persone, vai a parlare davanti, organizzare, perdere le perdite di tempo. Ma io a volte vedo veramente l'importanza di quello che facciamo, di questi eventi qua, di questi incontri. Quindi è veramente molto importante. E ringrazio veramente anche Ingrid, veramente ha fatto una... No, no, è veramente grande, bravo, è grande quello che ha fatto. Quindi fra poco sarà un cambiamento e poi nel frattempo stiamo aspettando no, no, quindi Doria, non è che Andrea, Marco Doria viene però il suo delegato da un momento all'altro arriverà e quindi un consigliere comunale viene proprio per rappresentare il sindaco di Genova e poi dopo ancora arriverà l'assessore di questo municipio, questo municipio centro-oveste. Anche loro hanno visto veramente l'importanza della nostra esistenza. Hanno bisogno di noi. Noi forse lo sappiamo. Io quando abbiamo iniziato nel 2012 di fare il torneo, cercavamo il campo di qua, di là e poi c'era uno, uno che è gestore di un campo sportivo, ha detto ma perché non andate al comune? Cercano chi può fare queste cose qua, chi può gestire questi eventi qua per il bene anche della città. E siamo andati anche a contattare il comune e poi apparentemente non c'era il risultato, no? Quindi nessuno ti diceva che va bene, siamo interessati, va bene, ti aiutiamo. Però dopo, piano piano, comincio a vedere veramente l'importanza di quello che noi facciamo. Anche se nessuno ti viene a dire che veramente è bello quello che fate, prendete qualcuno aspetta solo di avere soldi, no? Ma questa collaborazione, l'amicizia, quando uno dice che, guarda, siamo amici, ti invita un giorno, qualche parte, io un giorno mi hanno invitato di andare a partecipare al Consiglio Comunale, quindi ho visto che è veramente qualcuno, allora hanno bisogno di me, mi invitano, tu mi vieni, vieni a partecipare al Consiglio Comunale, c'erano tutti, no? E sono entrato, e quindi ci salutavamo. Allora da lì ho visto l'importanza di quello che noi stiamo facendo, ma prima non sapevo, non vedevo neanche l'importanza di quello che facciamo. E poi piano piano comincio a toccare queste persone, ad avvicinarmi, no? Vedo che c'è la volontà di collaborare, anche se non c'è la possibilità, quindi forse soldi o cosa, ci sono tanti tipi di problemi burocratici che veramente non è facile slegare, no? Però le persone si aprono e aprono veramente facilmente a noi per quello che noi facciamo. e adesso stiamo aspettando la consigliere comunale e l'assessore del municipio e forse fra poco cambia. Ci sarà un'altra persona che ti viene a sostituire, che è Latina, non so se c'è già, si è già entrata, comincia a prendere il posto e a fare il suo lavoro. Lei fa veramente le cose strane, lavora, quindi quando comincia a parlare qua tutti si alzano, no? mi piace, fra poco indralei. Grazie, Ingrid. Grazie a te.